Sono circondato da persone che si sentano o da un punto di vista anagrafico o da un punto di vista psicologico letteralmente vecchie e spesso e volentieri quando le incito a fare sport, ad uscire in bicicletta, a fare qualsiasi tipo di attività sportiva spesso mi dicono beh Davide sono troppo vecchio per andare in bicicletta. Allora non è vero, non è vero perché ci sono diversi fattori che rendano questa affermazione sbagliata. Beh innanzitutto la vita media, il tempo della vita media si sta allungando. Quindi che vuol dire? Vuol dire che se vogliamo arrivare in salute ai 70, agli 80 o perché no anche ai 90 anni bisogna prendersi cura del nostro corpo e non si è mai troppo vecchi per prendersi cura di sé. Non importa certo fare i grandi imprese faraoniche, scalare l'Everest, vincere il Tour de France per fare attività fisica in modo corretto anche in età avanzata basta veramente poco. Quello che conta è quello che dico sempre, un po' di forza di volontà e un po' di disciplina. Ovviamente essere giovani aiuta tantissimo perché si hanno molte più energie, le articolazioni funzionano alla grande, il nostro metabolismo è alle stelle, gli ormoni ci aiutano. Insomma essere giovani è sicuramente una condizione fisiologica perfetta per fare sport anche perché in quell'età potrebbero nascere anche dei campioni. Partendo da questo presupposto, partendo che sopra i 30, sopra i 40 ormai non si ha più possibilità di eccellere a livello agonistico dobbiamo prendere coscienza dei nostri limiti e fare sport per noi. Quindi non esiste un'età oltre la quale è inopportuno fare sport, esiste semmai un'età entro la quale iniziare a fare sport per noi. Tutti coloro che pensano di essere troppo vecchi per fare sport stanno aggiungendo una nuova scusa per non alzare il culo dal divano. Guardate, vi dirò di più, col progredire dell'età una buona attività sportiva vi renderà la vita sicuramente migliore. Quindi cari fringuelli, basta trovare scuse anche in età avanzata, si può fare sport in tutta sicurezza per stare veramente bene. Tra l'altro la bicicletta è uno di quegli sport in cui non si ha contatto col suolo, letteralmente si galleggia sulla nostra bicicletta quindi tutela in qualche modo anche le nostre articolazioni. Ovviamente la posizione molto distesa della schiena potrebbe essere un po' un problema per qualcuno ma con una buona visita dal biomeccanico e con una posizione in sella tutto sommato comoda si riesce ad ovviare anche a questo piccolo problema. Bene, adesso basta, non vi voglio più vedere sul divano a lamentarvi ma vi voglio vedere in strada a pedalare. Ciao!